Buonasera a tutti Grazie a voi Mi vengono in mente le parole anche dell'altra sera Tu hai fatto la storia di Lazio Io dico che la Lazio ha arricchito la storia di Cristian Edesco Quella che se volete rappresenta di più Pianto dopo la vittoria della Coppa Italia del 2013 Un bacio a quelli là E insieme a Maurizio Manzini Penso che sia un ricordo bellissimo Ne parleremo durante la serata però un istantaneo Perché noi tu sai che a mezzanotte qualcun altro lo sicherà a fare E dove è stata quella mattina? Ah è stata, poi non ci sarà più E' quella quando dicevamo non succederà più con la canzone Perché non succederà, non deve succedere più E' un'emozione unica, un mese intenso Perché un mese prima di questa partita L'avevamo cominciata a vivere così forte Sofferta E davvero una volta in campo guardando, ripeto, per la prossima volta Guardando i miei compagni in faccia E' sicuro che l'avrò portato a casa Grazie 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 Grazie